Oggi parliamo di George Roger, un grandissimo fotografo che fu anche tra i membri fondatori dell'agenzia Magnum. Pensate che fotografò la guerra di Abissinia, dell'Eritrea e del deserto occidentale, nonché la liberazione di Francia, Belgio e Paesi Bassi. Ma il lavoro più importante di Roger fu senza dubbio quello di riuscire a immortalare il Blitz di Londra e il che lo portò a diventare un fotografo della rivista Life e di conseguenza un fotoreporter di guerra. Sono tante le foto che ritraggono questo particolare momento avvenuto nel 1940 quando i tedeschi bombardarono ben 5 città tra le più importanti della Gran Bretagna. Tra le tante foto scattate quel 14 novembre c'è senza dubbio una davvero particolare. Lo stesso Roger racconta che dopo il bombardamento la vita andava avanti, anche se i postini nei loro giri trovavano molti indirizzi ormai inesistenti. Questa foto racconta proprio quei momenti. Seguimi per altre curiosità sulla fotografia.